Questo contenuto è valido e dedicato a tutti gli investitori rivolti al mercato azionario ma in particolar modo lo è nei confronti di coloro che vanno a sposare un ETF che vada a replicare passivamente un indice come l'S&P 500 o anche un MSC World, un All Country World, un All World. Ciao ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale. Se è vero che si opera in piena coscienza questa scelta si dovrebbe sapere che il ritorno nel mercato azionario gli studi adesso sono basati sull'S&P 500 annualizzati sono del circa il 10% quindi il 10% annualizzato all'ordo dell'inflazione ma bisognerebbe anche essere coscienti del fatto che uno debba detenere l'investimento per e nel lungo termine in quanto nel breve e medio termine all'interno del mercato azionario può accadere qualunque cosa è un mercato volatile e quindi si vivono degli anni particolarmente positivi e particolarmente negativi questa è soltanto una media ma io ho realizzato questo contenuto per farvi intendere, per dimostrarvi come le notizie e anche quindi il sentiment derivante, positivo o negativo e quindi poi i movimenti che fa questo indice nel breve e nel medio termine siano soltanto rumore di fondo perché viramente ha sposato l'investimento per il lungo termine notizie del tutto irrilevanti per quanto possano sembrare oggi pazzesche e ve lo voglio dimostrare ragazzi allora io qui sono andato a prendere l'indice S&P 500 o meglio stiamo visualizzando l'ETF SPY quindi l'ETF che va a investire che replica l'andamento dell'S&P 500 il più grande al mondo e ho fatto un giochino ho preso una finestra temporale quella degli ultimi 5 anni non perché sia un campione statistico lunghissimo quindi non stiamo parlando di 20 anni, 30 anni, 50 anni, 100 anni e probabilmente sarebbe anche inutile perché i mercati degli ultimi 10, 15, 20 anni anche l'economia, tutta quanta la finanza, l'industria finanziaria quello che sono in grado di fare le banche centrali il mondo così globale rispetto a una volta hanno mutato completamente gli scenari, i comportamenti e le dinamiche rispetto a 100 anni fa quindi spesso e volentieri secondo me non ha tanto senso in ogni caso io ho preso una finestra di 5 anni perché è accaduto di tutto dal 2019 ad oggi veramente qualsiasi scenario notizie drammatiche, notizie positive anche il sentiment degli investitori è oscillato fra l'estrema paura e l'estrema avidità inoltre si tratta di un periodo a noi ben noto quindi ci ricordiamo benissimo quello che è accaduto qui ogni giorno e voglio mostrarvi una cosa ho fatto un giochino ho preso le quotazioni di 5 anni fa qui mi segnalava 290,02 ho messo percentuale all'anno di ritorno il 10% ovviamente per interesse composto calcolo durata 5 anni qual è la somma che mi deve restituire alla fine? 477,17 ora qui potremmo fare anche il giochino dei dividendi quindi i dividendi esclusi, aggiustato per i dividendi oppure no ma non voglio concentrarmi su 0, punti percentuali in più o in meno io voglio adesso farvi notare quella che è la tendenza generale quindi il messaggio di fondo che voglio far arrivare ora noi stiamo vivendo nelle ultime sedute una correzione ci sono anche dei motivi in relazione a tutto quanto questo non solo di carattere tecnico ma anche di carattere fondamentale è abbastanza lecito attendersi che possa qui arrivare l'indice a 4.800, 4.700 punti poi vedremo ma insomma si sta avvicinando a che cosa? a questa linea nera che è esattamente il percorso che dovrebbe fare il nostro indice se la crescita fosse lineare cioè quindi se il mercato non oscillasse se questo 10% all'anno fosse sviluppato con un incremento giornaliero costante come se fosse un interesse overnight del 10% analizzato per interesse composto quindi se ci fate caso se ci fosse da qualche altra seduta qui ribassista andremo a incontrare esattamente il risultato finale che dovremmo ottenere con un ritorno del 10% analizzato ma nel mentre, nel breve termine all'interno di questi 5 anni ci sono state delle finestre davvero particolari io ad esempio ho disegnato dei rettangoli questi violaci in cui il sentiment era davvero negativo c'era pessimismo il mercato era ribassista pensiamo tutti quanti che ci fosse la fine del mondo invece all'interno dei rettangoli verdi ho tracciato, cioè ho disegnato quei periodi ho collocato quei momenti di avidità di euforia in cui il mercato sembrava che potesse soltanto crescere se voi ci pensate guardate quello che è successo dopo dei periodi fortemente negativi o positivi è servito soltanto per riportare in media l'indice solo tanto quello è accaduto e se ci pensate è stato completamente inutile eccitarci oppure vivere una sorta di depressione e paura in quei momenti tracciati a livello temporale da questi rettangoli perché poi l'indice nel corso degli anni ha seguito quella che è la sua media storica ecco perché voglio sostenere che nel breve termine tutte le notizie bellissime, orribili che arrivano e che determinano le nostre emozioni i nostri comportamenti all'interno del mercato siano soltanto del rumore ci distraggono dal risultato finale uno praticamente non dovrebbe fare nulla e lo ha già scelto a monte ho investito mi tengo lì il mio ETF vita naturale durante e otterrò il mio investimento perché poi ci arriviamo ma nel durante nel breve periodo in quel singolo anno in quel singolo mese in quel singolo semestre può accadere di tutto ma poi si andrà a verificare quello che è il principio della regressione alla media se si è scesi troppo allora poi si recupererà se si è corsi troppo si scenderà inesorabilmente questa è la fotografia ecco questi 5 anni che abbiamo vissuto sono il riassunto di tutta quanta la storia dell'S&P 500 dalla sua creazione ma tutta la storia del mercato azionale lo possiamo riassumere benissimo in questi 5 anni ed è accaduto di tutto la pandemia ci hanno chiusi dentro casa abbiamo visto poi degli stimoli incredibili massi monetari che arrivavano politica che aumentavano politica dei tassi a zero e poi invece c'è stata l'inflazione l'aumento dei tassi di interesse incredibili e poi tutta quanta la retorica nuova un po' di cambiamento lo scorso ottobre quindi 5 mesi di rally pazzesco siamo andati in estrema vedità adesso stiamo vivendo una correzione insomma qui è accaduto di tutto conflitti bellici tensioni geopolitiche c'è stata qualunque cosa dove ci troviamo? esattamente dove avremmo pensato di trovarci 5 anni fa proiettandoci avanti nel tempo quindi se qualcuno avesse investito 5 anni fa e avesse aperto oggi ok il suo contotitoli direi beh vedi si 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 è andato esattamente come come pensavo sta rispettando la media eccetera e si sarebbe perso tutta quanta questa serie incredibili di emozioni di decisioni all'interno del mercato si sarebbe risparmiato veramente tanta tanta tensione e non sarebbe andato al cardiologo ecco alla fine questo volevo mostrarvi poi è chiaro è anche un quinquennio particolare pertanto ci potrebbero essere anche 5 anni di mercato che corre soltanto di mercato soltanto ribassista un quinquennio se ce lo andiamo a scegliere in cui noi non otterremo mai e poi mai questo risultato del 10% se noi ci andiamo a prendere l'investimento nel 2000 poi andiamo al 2005 e chiaro non lo otteniamo questo 10% per quello si dice sempre bisogna avere un orizzonte lunghissimo perché se supermo i 10 anni le probabilità sono altissime i 20 anni quasi certi i 30 anni allo statistico davvero certi di poter aver guadagnato sul mercato azionario quindi più estendiamo il periodo e maggiore la probabilità che si vada a concretizzare questo ritorno annuale storico questo è il concetto quindi non è un bias cognitivo eccetera io ho scelto in maniera coscienziosa proprio gli ultimi 5 anni soltanto perché sono un caso studio estremamente rappresentativo delle dinamiche del mercato azionario quindi è per quello non per dirvi in 5 anni di sicuro il mercato sale così ma semplicemente perché è una fotografia perfetta di quello che accade del concetto del rumore di fondo delle distrazioni di breve termine e invece come nel lungo termine tutto quanto si possa andare a risolvere credo veramente di essermi spiegato quindi fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate in relazione a quello che vi ho mostrato ho cercato anche ovviamente di andare subito a smontare la critica ma tu hai preso 5 anni no ragazzi semplicemente per far vedere la fotografia non per dirvi che in 5 anni a tutti i costi abbiamo questa tipologia di ritorno non mi ripeto più era soltanto per farvi arrivare il concetto che uno potrebbe anche risparmiarsi tutte quante le emozioni eccessive e potrebbe rimanersene molto calmo e tenersi il proprio investimento e poi nel lungo termine tutto viene risolto è inutile stare lì ogni giorno ad aggiornarsi è chiaro io vivo di questo mi piace ho grandissima passione vi invito anche a seguire tutto quanto questo mondo a istruirvi a rimanere sintonizzati eccetera eccetera però non dobbiamo lasciare che tutto quanto questo ci vada a coinvolgere dovremmo essere molto più granitici rispetto alle informazioni giornaliere che arrivano che sembrano sconvolgere o cambiare qualsivoglia paradigma poi passa il tempo e alla fine la storia è sempre la stessa bene ragazzi vi ringrazio per esserati fino a qui iscrivetevi al canale lasciate un bel like se desiderate sostenere tutto quanto il mio lavoro su youtube io vi do appuntamento a prestissimo e lo sapete come sempre vi auguro il meglio nella vita e negli investimenti a presto a presto a presto